L'ARIF, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, con una nota a firma del direttore generale Domenico Ragno, ha voluto immediatamente chiarire la situazione del Pozzo Artesiano numero 4, sito in via vecchia Barletta ad Andria, ed oggetto ieri di alcuni quesiti che abbiamo posto in relazione all'ordinanza del sindaco di Andrio Nicola Giorgino e relativa il divieto di emungere acque dal Pozzo Artesiano della ditta Ferri, che si trova a poche decine di metri da quello di proprietà della regione. I Ferri avevano per primi denunciato che dal loro Pozzo arrivasse acqua fetida e dal colore poco rassicurante. Si erano accorti che qualcosa non andasse in quella fonte di acqua dal fatto che i loro due pastori tedeschi avessero smesso di berne. Avevano immediatamente smesso di approvvigionarsi da quel Pozzo, ma avevano anche intuito che il pericolo che avevano corso loro lo poteva correre l'intera comunità andriese, perché dalla stessa falda acquifera attinge un pozzo di proprietà della regione Puglia che consente di irrigare decine e decine di ettari di orti situati nella zona di Via Vecchia Barletta. Con le analisi che sono state eseguite dall'ASL BT, dall'ARPA Puglia e dai carabinieri del nucleo operativo ecologico, ieri è arrivata l'ordinanza del sindaco di Andria sul loro pozzo e che riportava esplicitamente quanto rilevato dalla ASL. Quelle acque sono tossiche, hanno superato i valori di soglia previsti per legge, all'interno vi è cloruro di vinile e tetracloroelene e alte cariche batteriche e quindi non sono essere emunte. Dopo il servizio di ieri, l'ARIF ha voluto precisare quanto rilevato sul vicino pozzo di proprietà della regione Puglia e che, come detto, irriga diversi ettari di orti. L'erogazione di acqua dai due pozzi ARIF, spiegano nella nota, vicini a quelli dei signori ferri, è stata immediatamente sospesa a scopo precauzionale nei giorni immediatamente successivi alla prima notizia di un probabile inquinamento. L'acqua dei nostri pozzi, che comunque pescano a una profondità ben maggiore di quello risultato contaminato, è stata sottoposta ad analisi chimico-batteriologica sia da parte dell'ARIF che da parte dell'ARPA e sotto la supervisione dei carabinieri del NOE. Le risultanze, sia delle analisi effettuate in proprio che dall'ARPA, escludono la presenza di sostanze tossiche come quelle citate nell'articolo per il pozzo dei signori ferri, al di sopra dei parametri di legge. È stata riscontrata solo una carica batterica superiore alla norma per i pozzi in questione, di origine organica però. L'utilizzo di quest'acqua è quindi compatibile con l'uso irriguo. Per questo, anche al fine di evitare ulteriori danni agli agricoltori già penalizzati dalla sosta della distribuzione, è stata ripresa l'erogazione idrica.